Ciao a tutti, sono Alessio19870, continuo il gameplay di San Etil Homecoming, via! Adesso mi trovo nella prigione trasformata, allora devo andare di qua. Purtroppo nel gameplay precedente, Alex ha sparato la madre, perché è stata lei a dirgli ti prego farlo, e ha sparato. Poi i macchinari sono partiti e hanno spaccato l'addome, quindi niente, è morta la madre di Alex. Quindi rimane il padre e il fratello. Vediamo un po' questa scena, cresce questo coso gigante. Che cazzo ha ingoiato questo deficiente? Ma, ma, vediamo un po' quello che c'è scritto. Esaminare. Sto al lato dell'uomo santo. La mia ira, nessuno può muoversi come me. Su un sentiero come, come è, eh, non capisco che c'è scritto, niente. Allora, l'uomo che ha cercato non lo vuole. L'uomo che l'ira ha comprato non lo usa. L'uomo che l'ira ha usato non so se ne rende conto. Vediamo un po' quest'altro. Cosa l'uomo ama più della vita? Teme più della morte o dei conflitti mortali? Cosa hanno i poveri che i ricchi comprano? E che tutti gli uomini desiderano cosa gli avari spendono e i fannulloni risparmiano. E tutti gli uomini portano alla tomba. Qui niente. Vediamo un po' di risolvere questo puzzle. Mi sembra. Questo, no. Mi sembra il cavallo. Poi qua, metto la tomba. Questa, la tomba sopra. E qua? Eh. Vediamo un po'. Facciamo questa qua. Vuoto. Esaminare. Cercare dentro, andare via. Prima opzione. Cercare dentro. Vediamo un po'. Giusto. Cavallo. Tomba e niente. Giusto. E questo qua va sopra. Ecco. Adesso. Vediamo un po'. Posso scendere. Via. Qua scendiamo. Oppla. Non si è fatto niente. E fate questa scena. Vedete un po' scioccato della morte della madre. Va. Punta la pistola. Invece? È Wheeler. Eh. Questa è topaia. Cosa c'è? Ecco. Ho trovato la madre. Non ho potuto salvarla. Eh. Lo so. Uh. Cos'è? C'è il nome di El. Allora dobbiamo andare via. Andiamo compagno. Andiamo compagno. Ok. Allora. Oh. C'è un salvataggio. Perfetto. Will e vieni qua. Ok. Salviamo la partita. Qua. Ok. Dunque. Finisce qui il gameplay di Silent Hill Homecoming. Un ciao da Alessio19870. Al prossimo gameplay. Al prossimo gameplay. Grazie a tutti